Vediamo ora l'inserimento delle fasi di lavoro. La prima cosa da inserire sono le lavorazioni che saranno svolte in cantiere. Per farlo devo utilizzare il tasto più. Adesso ne vedete già inserite perché siamo partiti da un lavoro già fatto. Nel caso fosse un lavoro nuovo, questa tabella sarebbe vuota. Quindi premo il tasto più e mi si apre l'archivio delle lavorazioni che abbiamo già visto. Anche questo è suddiviso in database utente e database tecnobit. Io posso attingere sia da uno che dall'altro. Quindi posso selezionare la lavorazione che mi interessa sia dal punto di vista dell'archivio utente che eventualmente anche dall'archivio tecnobit. Se voglio cercare una particolare lavorazione, perché effettivamente in un archivio così ampio può essere un po' difficoltoso cercarla, allora posso utilizzare i filtri, mettere una certa descrizione, premere il tasto tab e il programma mi filtrerà tutte le lavorazioni inserite cercando quelle che all'interno, nel campo descrizione, hanno le lettere che ho inserito. Una volta individuata la lavorazione che mi interessa, la seleziono e premio il tasto ok e quindi mi viene riportata l'elenco delle lavorazioni che ho inserito per il mio piano. Per ogni lavorazione inserita devo andare ad associare la relativa impresa e questo mi servirà soprattutto dal punto di vista del cronoprogramma dei lavori diviso per imprese. E quindi vado a fare l'associazione per ognuna di queste lavorazioni. Poi la cosa più importante, oltre a questo, è quella di andare a indicare quali sono i rischi associati ad ogni lavorazione. Anche qui l'allegato 15 aiuta molto, nel senso che l'allegato prevede per ogni lavorazione un elenco minimo di rischi da valutare. E quindi questo elenco il programma lo propone già per ogni lavorazione. L'unica cosa che devo fare è indicare se è presente o no. Quindi se è presente, attivo la relativa casella, il nome del rischio non sarà più in grigetto ma sarà riportato in ereto e volendo posso anche andare a modificare e vado a indicare una piccola descrizione di questo rischio, di quando si può verificare delle modalità, le procedure da seguire o altro. E soprattutto dopo vado anche a dare un'indicazione numerica della probabilità e del danno che può apportare questo rischio per fare una valutazione che verrà inserita poi all'interno del piano. E questo va fatto per tutte le fasi inserite. Se oltre a questi rischi minimi previsti dall'allegato 15 ne voglio userire ulteriori, posso comunque utilizzare il tasto più, mi si crea una casella vuota che vado ad attivare e posso mettere il nome del rischio, mettere la descrizione e i valori di probabilità e danno. Per i rischi che non sono stati attivati, il programma comunque, vedremo dopo, nella fase di elaborazione, questo rischio verrà inserito ugualmente ma con l'indicazione per questa fase non si prevede tale rischio in modo che sia chiaro che il rischio è stato valutato ma è stato ritenuto non presente e quindi questo verrà riportato nel piano. Se comunque non mi interessa che ci sia questa indicazione che faccia capire che il rischio comunque è stato valutato, seleziono il rischio, premo il tasto meno e mi viene tolto dall'elenco e quindi non comparirà all'interno dell'elaborato.